Io dico solo che oggi sono stati grandi, mi è piaciuta molto, sono onesto, questa è la squadra che piace a me, una squadra arrembante, una squadra che corre, che lotta, che gioca palla a terra, è un po' che non lo facevamo e sono visti i frutti. E credo che molti giocatori oggi hanno ritrovato quel gusto, quella voglia di indossare la maglia del Sansepolcro, essendo una squadra che gioca con una certa mentalità, giocare con la nostra mentalità e credo che sia visto i frutti. Andata bene, andata bene. La tripletta la dedico ai miei compagni che erano fuori, tifar per noi, visto che siamo in tanti e non possiamo giocare tutti, la dedico vivamente ai miei compagni che erano fuori a sostenerci. Abbiamo fatto una grossa prestazione al primo tempo, dopo il secondo abbiamo mollato un po', dopo anche loro era una buona squadra, ci ha dato un po' fastidio, dopo si è riuscita a chiudere fortunatamente. Ma a noi ci manca un punticino o due per la salvezza, siamo contenti, dai ci proviamo fino alla fine noi. È stata affrontata in maniera un po' scriteriata questa partita, credo che una squadra come questa vada affrontata un po' in maniera diversa. Abbiamo prestato il fianco ad una squadra che negli spazi si esalta, è più forte del Bastia, la classifica lo dice, forse non ci abbiamo fatto caso. È chiaro, avere giocatori a disposizione è importante, ma credo che nel computo di una partita come questa non è che Marchetti o Resti avrebbero potuto cambiare questa partita. Credo che l'abbiamo sbagliata completamente e quindi non c'è niente da fare.